Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la sfida di infliggere danni entro 10 secondi da quando avete rimbalzato su uno degli ombrelli a sabbie sudate. Il consiglio è quello di prendervi un'arma saltare sull'ombrello e poi avvistare un nemico e infliggergli dei danni. Ovviamente potete farlo all'infinito quindi magari ecco adesso ho 10 secondi di tempo in questo modo qua l'ho ammazzato e gli ho recato danno. Quindi se non riuscite in tempo risaltate sull'ombrello e sparate agli avversari. Quindi il mio consiglio è quello di procurarvi delle armi qui a sabbie sudate posizionarvi vicino agli ombrelli appena vedete un nemico saltate sull'ombrello e lo eliminate.